Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella Divina Volontà. Regine Immacolata, Celeste Madre Mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia, per chiederti cosa spiriti più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sia la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, Sovrana Regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto la tua mano materna guiderei tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella Divina Volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà finché me la scambi con la Divina Volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Padre, ti canto una preghiera Quella che tuo figlio ci ha insegnato per amore Noi figlio ci ha insegnato per amore Noi figlio ci ha insegnato per amore Padre, il mostro che sei nei cieli Dacci il nostro pane quotidiano Padre Tu pane vivo Venga il tuo erno Tu mentino Tu fiambo di un testo tuo E sempre in te E tu in me Come un cielo così bella Dal libro di cielo Volume 24 25 marzo 1928 Come le conoscenze Sono tanti i passi Che il divino volere ha fatto Per ritornare in mezzo alle creature Come questi passi porteranno vita, luce e santità Sospiri di Gesù Nel farli conoscere La mia povera mente Mentre seguiva il Fiat divino Per accompagnare gli atti suoi Andava pensando a tante verità Che il mio amato Gesù Mi aveva detto Sulla divina volontà Con quanto amore ed interesse Me le aveva manifestate Onde pensavo tra me Le prime verità Dettemi da lui Sembravano lampi di luce Che sprigionava da dentro Una luce interminabile Poi mano a mano Non più lampi Ma fontane di luce Sotto di cui La povera anima mia Restava sotto il continuo oggetto Di queste fontane di luce Finalmente mi sembravano Mari Di luce di verità In cui io restavo Tanto sommersa Che la mia piccola capacità Non tutto poteva prendere E lasciavo molte verità In quello stesso mare In cui io Mi sentivo Immersa Non mi era dato Di restringere in me Tutta quella luce Interminabile Che convertendosi In parole Manifestava l'armonia La bellezza La potenza Del supremo volere Ora mi sembra Che sto nella luce Ma la luce non parla Ed io Mentre bevo Mari di luce Non so dirne nulla Ora Mentre ciò pensavo Il mio sempre amabile Gesù Si è mosso nel mio interno E tutto l'amore Mi ha detto Figlia mia Tu devi sapere Che la nostra paterna bontà Come l'uomo Si sottrasse Dalla nostra volontà Così ritirò La vita operante di essa Da mezzo alle creature Perciò pochissimo Hanno saputo dire di essa Perché non scorreva In loro come vita Il mare Della luce operante Del mio Fiat divino Perché essi stessi Integralmente Lo avevano Respinto E per somma Nostra bontà Lasciamo loro il bene Di poter seguire Gli ordini Del nostro volere Non La vita In cui potevano sperare La loro salvezza Perché senza di essa Non c'è Né salvezza Né santità Ma la nostra paterna Bontà Il nostro volere Ed il nostro amore Vagheggiavano Sospiravano Anelavano forte Il ritorno Come vita operante In mezzo alle creature Vedeva che esse Non potevano raggiungere Lo scopo perfetto Della creazione Né formare Quell'immagine Da noi voluta Tutta assomiglianza nostra Come fu creata Da noi Senza la vita operante Del nostro Fiat Perché esso Essendo atto primo Della creatura Mancando essa La creatura Resta disordinata Contraffatta Perché le manca Il primo atto Della sua esistenza Ora tu devi sapere Che il nostro essere supremo Dopo tanti secoli Di sospiri nascosti Rigurgitò più forte D'amore Che nella stessa Creazione e redenzione Sentimo il bisogno D'amore Perché esso Rigurgitando Stralipava fuori di noi Sentimo il bisogno Di fare i primi passi Verso la creatura E come io Cominciai a manifestarti La prima verità Sul mio volere divino Così lo tiravo A fare i primi passi In mezzo alle creature E questi passi Li accentravo in te Per mezzo delle sue conoscenze E come vedevo Che mettevi i tuoi passi In quelli del fiat divino Io gioivo Facevo festa E manifestandoti altre verità Su di esso Lo tiravo a fare altri passi Sicché quante verità Ti ho detto sulla mia volontà Tanti passi Ho fatto fare al mio fiat Per farlo ritornare Come vita operante In mezzo alle creature Perciò te ne ho detto Perciò te ne ho detto tanto Che si può dire Che cielo e terra Sono pieni dei passi Delle conoscenze Del mio volere Che unendosi insieme Formano il mare di luce Nell'anima tua Che volendo Stralipare da dentro Di te Vuol fare la sua via In mezzo alle creature E questi passi Saranno moltiplicati A seconda che saranno Riconosciute le verità Sulla mia volontà Perché io non manifesto Mai una verità Se non quando voglio Farne dono Dandole la vita E il bene Che essa contiene Onde fino a tanto Che la mia volontà divina Non sarà conosciuta Con tutte le sue conoscenze I suoi passi Saranno inceppati E sospeso Il bene che vuol fare Alle creature Se tu sapessi Com'è doloroso Poter fare del bene Mettersi in atto Di farlo Ma poiché Non si conosce Tenerlo sospeso Ad aspettare Riaspettare E sospirare Che lo faccia conoscere Per sgravarsi Dal peso del bene Che si vuole dare O se tutto questo Sapessi Come ti affretteresti A far conoscere Tutti i passi Del mio fiat Molto più che essi Sono passi Che porteranno Non rimedi Aiuti Medicine Ma pienezza Di vita Di luce Di santità E totalità Di beni Ed il mio amore Rigurgitando Ed allagando Tutto il mondo Ripristinerà L'ordine Della creazione Ed il dominio Del mio volere In mezzo In mezzo All'umana Famiglia Dopo di ciò Il mio dolce Gesù Si faceva vedere Che da dentro Il suo cuore divino Uscivano tanti raggi Di luce Dal punto dove partivano Stava impressa Ciascuna conoscenza Sulla divina volontà In modo che formavano Perciò non possono Allungarsi ed allargarsi Per riempire di luce Tutta la terra Succede come succederebbe Al sole Se gli venisse impedito Che i raggi Partendosi dal centro Della sua sfera Restassero nell'aria Senza potersi allungare Per toccare la terra Ed investirla Con la sua luce E col suo calore Il sole Col non poter allungare I suoi raggi Non potrebbe dare Gli effetti Che la luce contiene Nella terra Riceverli Ci starebbe Una certa lontananza Tra la terra E la luce del sole E questo allontanamento Impedirebbe al sole Di far bene alla terra Ed esso resterebbe Sterile ed infeconda Tali sono le conoscenze Sul mio Fiat Se non si fanno conoscere I suoi raggi Non si possono allungare E prendere Come in mano Le anime Per riscaldarle Per togliere loro Il torpore Dell'umano volere Plasmarle di nuovo Trasformarle di nuovo Nella vita Che il mio Fiat Vuole infondere Perché queste conoscenze Sono e contengono La nuova creazione Di trasformare la creatura Come uscì Dalle nostre Mani Creatrici Bene Cominciamo la meditazione Di questo bellissimo Brano Che Anzitutto contiene Un chiarimento Un chiarimento A mio avviso Molto importante E che serve anche A rispondere A dubbi Perplessità O domande Che a volte Qualcuno Si fa O potrebbe farsi Dinanzi Agli iscritti Di Luisa Sappiamo che qui Viene rivelata La Divina Volontà Attraverso Tra peraltro Tante Modalità Di espressioni Divina Volontà Atto Unico Del Fiat Supremo Divin Volere Fiat Supremo Stesso Fiat Divino Eccetera E qualcuno Non capisce Questa cosa Ma che cosa è Questa cosa Un pochino strana Insomma Molto più semplicemente La Chiesa Da sempre Lo diciamo Nel Padre Nostro Parla Semplicemente Della volontà Di Dio Bisogna fare La volontà Di Dio Basta Che è tutta Sta roba strana Qui La Divina Volontà Il Fiat Supremo L'atto Unico Che non basta farlo Allora Qui Gesù anzitutto Mette Un pochino Una mano avanti E la mette In questo senso Dice Figlia mia Tu devi sapere Che la nostra Paterna Bontà Come l'uomo Si sottrasse Dalla nostra Volontà Così Ritirò La vita Operante Di essa Da mezzo Dalle creatore Questo è il primo Punto Fondamentale Dio Aveva donato La Divina Volontà Come patrimonio Come dote La Divina Volontà Con la sua vita Quindi anche La possibilità Di conoscere Cosa essa è Dall'interno E cosa essa fa Ad Adamo Ma questo dono È andato perduto Col peccato originale Ed è andato perduto Ed è andato perduto Quindi Non si sa più Che cosa sia Quindi è normale Che Dinanzi ad esso Si abbiano Diciamo così Delle Quanto meno Iniziali Perplessità Che cos'è Questo Divin Volere Che cos'è Questa Divina Volontà Non lo sappiamo più Dice Gesù Pochissimo Hanno saputo Dire di essa Per questo Perché Non scorreva In loro Come vita Il mare Della luce Operante Del mio Fiat divino Perché essi stessi Ingradamente Lo avevano respinto Allora Che cosa succede Dice sempre Gesù Per Somma Nostra Bontà Questo bene Era perduto Però che cosa Gli lasciamo Lasciamo Loro Il bene Di poter Seguire Gli ordini Del nostro Volere Attenzione Gli ordini E non La vita In cui Potevano sperare La loro salvezza Perché senza di essa Non c'è Né ricchezza Né santità Quindi Quello che il Signore dice È semplicemente Questo La divina volontà Era perduta Col peccato originale Quindi Quindi È rimasto Semplicemente La possibilità Di eseguire Di fare Il divin volere Non Più La vita Della divina volontà Ma appunto Il divin volere Ossia Gli ordini Del divin volere Esattamente Quello che noi Abbiamo conosciuto E imparato Cioè Bisogna Fare La divina volontà Ma non avere In noi la vita C'è una grande Differenza Questo ormai Dovrebbe essere Abbastanza Chiaro Quindi Avendo perduto Ad amo Il dono Della divina volontà Noi oggi Non ne abbiamo Più Percezione E quindi Questo spiega Il fatto che Specialmente Chi non conosce bene Gli scritti Che non è un pochino Addentro Ai libri di cielo Quando sente Certi discorsi Può Come dire Rimane un pochino Perplesso Cioè Non capisce bene Di che cosa si parla Appunto Perché Qui stiamo Parlando di qualcosa Che è andata per dura Di cui non abbiamo più La percezione Sensibile Non c'è più E la divina volontà Deve tornare a regnare Ad essere la vita Delle creature Ed è per questo Che Gesù Ha cominciato Quest'opera Diciamo così Con Luisa Anche se l'ha già compiuta Durante la sua vita terrena Però è normale Quindi che Si avverta Un certo senso Come dire Di Non dico Di disagio Ma di smarrimento Di Perplessità Di Incomprensione Dice Ma che è sta roba Quindi Tante volte Ho raccontato Che questo Mi capitò Anche a me Le prime volte Che sentii Parlare Di questi scritti Bisogna Bisogna studiare Bisogna Sai che Luisa Piccarreta La mistica La divina volontà Io Ascoltavo Con una certa Sufficienza Con una certa Anche Dico Ma La mistica La divina volontà Sì Per carità Con tutto Per carità Non voglio certamente Minimizzare Ma Che cosa ci sarebbe Di così Particolare Originale Lo sappiamo tutti quanti Che Non c'è santità Senza Senza volontà divina Di che cosa stiamo parlando Che ci stiamo inventando No Ecco Quindi questo è il Il primo punto importante Di Di meditazione Il secondo È questo Cioè Adesso Nostro Signore Vuole farla conoscere Questa divina volontà Ecco perché Gesù batte sempre tanto Sulle conoscenze Pensiamo anche Alla meditazione precedente Al brano precedente Quello che stiamo Meditando oggi No Cioè Conoscenze 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 Perché Allora Conoscere non basta Perché dopo Insieme alla conoscenza C'è anche l'accoglienza E c'è anche Cominciare a vivere E c'è anche Come dire Quella sublime Forma di conoscenza Che deriva poi Chiamiamola in senso ampio L'esperienza No Cioè Quando si comincia A percepire La vita Della divina volontà E per farlo Ecco Bisogna conoscere Alcune porte Che il Signore È aperto Ecco perché Le conoscenze Cioè Se uno Non sa Che Gesù Ha raccomandato Di fare Per esempio Frequenti atti Di fusione Con la volontà Di Dio Non gli viene neanche In mente Di fare una cosa Di questo genere Chiamare la divina volontà Come vita Delle nostre azioni Come principio Delle nostre azioni Se uno non lo sa Non gli viene neanche In mente D'accordo Oppure Prendere coscienza Che la divina volontà Ci circonda Ci circonda Del suo amore Che scorre Anzitutto Tutte quante Tutte quante Le opere Della creazione Quindi noi Continuamente Possiamo attingere La vita La bellezza La grazia La luce Che la divina volontà È e ha E che ha depositato In tutte le cose create Questo Per chi comincia A farlo Comporta Un tipo di vita Veramente profondamente Diverso Nel senso che Facciamo un esempio No Per farci capire Se uno ha un animale domestico Uno c'è la sia che vive Nella divina volontà Se che non vive Nella divina volontà Ci danno pure i peccatori Gli animali domestici No E anche i peccatori Se c'è un bel animale domestico Si sentono come dire Inclinati Si sentono portati Si sentono Affezionati A quell'animale domestico Loro non sanno perché Perché si sentono affezionati Perché in quell'animale domestico La divina volontà Ha messo qualcosa di bello E quel bello L'uomo lo percepisce Attraverso la forma di essere Di quell'animale domestico Una persona che vive Nella divina volontà Che c'ha un animale domestico C'ha lo stesso animale domestico Non è che il cane diventa Qualche cosa Gli vengono le ali O gli viene l'aureola in testa No Però Chi vive nella divina volontà Nel gesto di amore Di un cane Nelle fusa di un gatto Non lo so Nella fedeltà O nella forza di un cavallo Non lo so È capace Comincia ad essere capace Di vedere Il dono Che Dio gli ha fatto E di cominciare a ringraziarlo Non è la stessa cosa Perché Se io Mi godo La bellezza di un animale domestico In quanto tale Il bene che ne trago È molto piccolo Ed è transitorio È evanescente Passa presto Se io Mi rapporto Con quello stesso bene creato Nella divina volontà Non godo soltanto Di quell'effetto contingente Ma cerco di andare a cercare E di unirmi Alla fonte di quell'effetto contingente Perché Un cane Un gatto Un cavallo E qualunque cosa Che noi vediamo Chi è che l'ha creato L'ha creato Dio E come crea Dio Tutto Ecco perché si parla Della divina volontà Come una sorta di personificazione Divina Come fa Dio a creare Lo sappiamo Dalla sagra scrittura Dio disse Sia la luce La luce fu Ma in latino È Fiat lux Anche in greco Vai e chi Or Che è L'equivalente Del fiat Quindi è un atto Di volontà E appena si muove La divina volontà Come noi sappiamo La divina volontà È talmente potente Che appena vuole una cosa La fa Senza che niente Nessuno Può sopporsi La divina volontà C'è il potere Divino Di creare Qualche cosa Da nulla Creaxio Ex Nihilo Si dice In termini tecnici Rei e subietti Capito Allora Questa stessa potenza Questa stessa eternità Questa stessa grandezza E non solo La divina volontà stessa È la fonte Della felicità Intratrinitaria Perché le tre persone divine La fonte Della grande felicità Di queste tre persone divine Per quanto noi possiamo Conoscerne È l'amore infinito Con cui Interrottamente Si amano E si donano L'uno all'altro Ma l'amore è un atto Della volontà Quindi Capiamo Perché C'è questa grandissima importanza Allora Immaginiamo Che significa Se La potenza E la vita Di questo Sorgente mirabile Di tutto ciò Che è Che si trova Dentro la Santissima Trinità Diventa vita nostra Qui cambia tutto D'accordo Qui non si tratta Gesù Fa di nuovo l'esempio No Gesù è venuto A redimerci O I beni Della redenzione Che sono per carità Grandissimi Però Come la Chiesa insegna Basta aprire il catechismo Basta leggere I trattati di teologia dogmatica Basta Leggere Gli scritti Di insegnamenti Dei santi Cosa sono Per esempio I sacramenti I sacramenti Sono rimedi Rimedi Medicine Aiuti Io Ricevo il sacramento Del battesimo E quello è un grande rimedio Perché intanto Mi viene tolta la macchia Del peccato originale Uno E secondo Mi viene infusa la grazia Due Però come tutti sappiamo Non è che basta il battesimo Per diventare santi Come si è santi Come Dio è santo O diventare impeccabili O infallibili Per carità Cioè Il peccato originale Non c'è più Arriva la grazia di Dio Adesso aspetta a me Però rimboccarmi le maniche E vivere Secondo quelle virtù Che certamente Il battesimo Ha infuso nella mia anima E che sono presenti Come abiti Infusi Ma io lo devo esercitare Il battesimo Toglie il peccato originale Ma non le conseguenze Quindi la concupiscenza Rimane L'inclinazione al mare Rimane E questo io devo combattere Per superarle Lo devo fare Altrimenti Non diventerò santo Tutto qui Ecco Quindi E queste E attenzione Tutte queste cose Si sono vissute Si vivono E si vivranno Fino alla fine del mondo Perché anche quando Si avrà la vita Della divina volontà Non esiste Nessuna dispensa Nessuno Ne può darsela Ne può darla D'accordo Come diceva Santa Teresa Davila Questo l'ho detto Tante volte Una persona Che arriva La grazia Del matrimonio spirituale Che A quanto ne conosce La scetica classica E la mistica classica La massima forma possibile Di unione con Dio Su questa terra Più grande di questo Non ci può stare Però quella persona Deve fare la preghiera vocale Deve dire il Padre Nostro Deve dire l'Ave Maria Deve fare il Rosario Deve fare pure l'orazione mentale Deve mettersi a fare la meditazione Come tutti i cristiani normali Poi che ci abbia Quello stato sublime Eccellenza Del matrimonio spirituale Quindi che Ha le estasi Ha le grandissime intimità Con le persone divine Questo va bene Ringrazia Se il Signore Certamente ci è arrivata Per grazia di Dio Ma anche per la cooperazione Che ha espresso con la grazia Ma questo non l'esonera Dal continuare a vivere Gli strumenti Come può Certamente Ma deve farlo Per quanto sta in lei Che vivono tutti quanti I cristiani comuni Che queste grazie Così grandi Non le hanno avute Però Si avvertirà La differenza E si avverte la differenza Tra Un rimedio Cioè Immaginiamo anche Le malattie croniche Quindi chi comincia A avere qualche annetto Come sottoscritto E qualche acciacchetto E ci sono alcune Malattie croniche Che non guariscono mai Le forme di artrosi Le piccole ernie Che non sono operabili Però è anche molto Difficile Di gestirle Che si può fare Su queste cose Eh Fai qualche esercizietto Fai un po' D'allenamento Prendi qualche pasticchetta Quando ti vengono le cose Pensiamo anche Alle allergie Io parlo delle cose Conosco un pochino Che si può fare Te la tieni L'allergia Quando ti arrivano Le fasi acute Aumenti Le relazioni Di antistaminico Quando è moderata Le diminuisce Quando A un momento Che non ci stanno reazioni Puoi anche sospenderle Ma non è che passerà Ecco Diciamo così L'economia Che si vive Sotto Il regno Della redenzione Quindi sotto Ciò che abbiamo Sempre vissuto Cioè che è Conoscere gli ordini Della di una volontà Cercare di farli E' questa Quindi stiamo sempre In stato Come dire Malaticcio Però Più o meno Andiamo avanti Insomma La persona che ha Qualche acciacchetto Fa una vita normale Non è Menomata Quindi non è Non è che c'è un'infermità Tipo Ha perso la vista Ha perso gli orecchi Ha perso la deambulazione Quindi Cioè L'opera della redenzione Ci rimette in sesto Però Rimaniamo sempre Come se fosse una sorta di Malattia cronica O convalescenza perpetua E così E anche i santi Hanno Hanno combattuto contro questo Bastire agire San Paolo Nel Nuovo Testamento Mi è stata messa Una spina nella carne Ho pregato al Signore Di mandarla via Ma questo non me la manda via E mi ha detto Ti basta La mia grazia Sant'Agostino Nell'esegesi di quel brano L'ho detto tante volte Dici che cos'era questa Era una tentazione carnale Quella che fece buttare In mezzo alle spine San Benedetto E San Francesco In mezzo alle spine Sono buttate per spegnere i fuochi Quindi non è che E erano San Benedetto E San Francesco Non erano insomma Gli ultimi Della classe No Ecco Però Ecco perché Gesù dice Io voglio dare di più Perché il ripriso Che cosa dicono questi scritti Che cosa rivelano Che Ciò che è stato perduto Anzitutto Gesù lo fa Di nuovo conoscere Perché Perché Non lo conosciamo più Non ci raccapezziamo È normale Che uno avverta Un senso di Come dire Di ripeto Di smarrimento Ma perché lo vuole fare conoscere Perché lo vuole dare Perché lo vuole far vivere Perché Il famoso Cioè Quello che Gesù rivela Qui È che la condizione Perduta di Adamo Che non è stata Purtroppo Ricuperata Al cento per cento Con l'opera Della redenzione No È stata È stata certamente Sanata Nel senso che Tutti possiamo accedere Alla salvezza Tutti quanti siamo Realmente giustificati Possiamo diventare Santi Ma non c'è ancora Quella pienezza Di vita E quell'intimissima Comunione con Dio Stabile Che c'era Nei nostri progenitori Questo è quello Che il Signore Promette Poi certamente Uno è liberissimo Di crederci Oppure di Di non crederci Tutte quante queste cose Quindi Ce lo siamo sempre Ce lo siamo sempre Detto Quello che noi sappiamo Di certo Dalla liberazione E quindi da ciò Che la Chiesa Ha con la sua autorità Stabilito Essere Punto di riferimento Del nostro credo È che queste cose Non solo Non si oppongono In nulla A ciò che è rivelato Ma Come dire Danno la possibilità Di Comprendere Meglio Alcune cose Che Fino ad oggi C'erano Ma erano un pochino Oscure Come sempre accade Nell'ambito Di quelle che si chiamano Le Le rivelazioni private Cioè Viene focalizzata Quindi qua era Questo stato Così eccellente Così Tale da far chiamare La condizione D'amore Il paradiso terrestre Sì C'erano i doni Sovranaturali I doni preternaturali La pienezza Dei doni naturali La scienza infusa Tutte le cose Che La Chiesa sa E ci insegna Ma C'era il dono Dei doni La sorgente La fonte Di tutte queste cose Che è la divina volontà E Chi ce l'ha mostrato Chi era questo È la Madonna Quindi Ecco perché Gesù può dire E questa cosa Lui la vuole dare Concludiamo La vuole dare Però Se non Vengono Diffuse Le conoscenze Io questa cosa Non la potrò dare Perché le persone Perché Dio non fa Doni Imposti Dio non C'è Dio è proprio nemico Di ogni imposizione Come Come sono le Le dinamiche divine Chiamiamole così Dio che cosa fa Ti fa conoscere qualcosa Te la propone Tu devi Tu devi Interessartene Conoscerla Poi accoglierla Poi desiderargliela Poi chiedergliela A volte chiedergliela Non una volta sola Chiedergliela Una certa insiste E alla fine te la dà Funziona così Quindi se mancano Questi step Anche se Dio Vorrebbe fare Quel dono Se manca Diciamo così La procedura Per ottenerlo Quel dono Rimane in Dio E Dio soffre Perché vorrebbe darlo Ma non lo può fare Perché Dio non è certamente Un burocrate Dio non è Non importa niente Delle procedure Ma questa procedura Non è altro Che il rispetto Profondo Della condizione In cui Dio stesso Ci ha creati Ricordiamo sempre Che Dio ci ha creati Liberi per noi Figli di Dio La libertà È un bene supremo E non fa niente Senza Il consenso O quantomeno Il permesso esplicito Della creatura Non impone Non impone Neanche i beni supremi Perché i beni supremi Devono essere conosciuti Desiderati Scelti E chiesti E allora Arrivano Grazie a tutti Grazie. 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 Grazie.